bella non sporare mozzo dimmi come lo devo tenere così dopo ma già questo fatto qua lo metti devo vederci andare ma se tipo noi la mettiamo la fotocamera e ci filmiamo intanto che non si può perché non verrebbe nemmeno bene buongiorno sono uno scemo perché non hanno portato il corso del cuciraponte sennò lo